Si sono concluse con grande successo le visite guidate agli scavi archeologici nei pressi di Largo Porta Maggiore a Fano. In sole tre settimane le visite volute dall'amministrazione comunale e dalla sopraintendenza delle Marche hanno registrato un'affluenza di circa 1650 persone, tra cui 750 ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. I lavori di ritrovamento nei pressi della porta stanno tuttora continuando, riportando alla luce i segni delle tante vicende accadute tra le mura romane e lo sviluppo del primo nucleo di addizione malatestiana, facendo riemergere segni della propria storia, confermando le teorie basate sui documenti d'archivio. Questo importantissimo passaggio storico della città ha significato per i cittadini un'occasione per conoscere ancora per poco il richissimo patrimonio culturale della città della fortuna, che secondo alcune indiscrezioni gli scavi in questione potrebbero successivamente, a lavori ultimati, essere ricoperti da una pavimentazione, togliendo di fatto la vista delle fondazioni murarie e l'ingresso ai cunicoli che sono ubicati solo a pochi centimetri dall'attuale piano stradale. Lei è favorevole o contrario alla copertura degli scavi? Secondo me potrebbe essere anche una cosa giusta, magari se hanno trovato dei ritrovamenti importanti, anche lasciarli magari a vista, con una copertura in vetro. Adesso stanno valutando, penso, se la cosa è possibile o no. Quello che sapevo che dovevano venire qui a volutare per vedere se questi scavi erano così importanti. Staremo a vedere, io sarei contento se lasciano a vista qualcosa perché tanto fa parte della storia. Dipende effettivamente da quanto costa tenerli all'aperto o al chiuso, dipende dalla gestione insomma. Quindi io sono favorevole nel senso che farei degli spazi con il pavimento di vetro in modo che si può vedere, ma dall'altra parte chiuderei per il passaggio ovviamente, perché storicamente è un passaggio lì per i piadoni. Per me è un po' uno sbaglio secondo me perché vuol dire anche un turista che viene, a parte le solite archi e solite c'è un qualcosina in più, io non lo coprei tutto, mo' di gettate. Io sono molto soddisfatta di tutto. Quindi secondo lei sarebbe un peccato chiudere proprio tutto? Come chiudere? Ricoprire gli scavi. Eh sì, perché li vogliono ricoprire? Eh ma loro non capiscono niente. Lei è favorevole alla chiusura degli scavi archeologici? Direi proprio di no. Adesso non so esprimermi al riguardo perché non sono proprio di qua, però direi di no. È sempre un patrimonio da dover curare e osservare. Grazie. 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 Grazie.